Buongiorno, siamo all'interno del nostro showroom qui all'automarket Bonometti, io sono Pierluigi. Oggi vi presento una novità assoluta, il nuovo Liseo Gallery. Liseo Gallery è una macchina particolare con un nuovo sistema di tetto rialzabile a soffietto con un sistema ad aria compressa. È una novità che permette di avere quasi due tipologie di veicolo, un manzardato quando sei fermo, è un semi integrale quando devi viaggiare. Il tetto, come vi dicevo, si solleva tramite un compressore ed è elettrico. È fatto sulla base della gamma Privilege di Buston, per cui telai originale Fiat Camping Car con doppio pavimento tecnico, di serie la cabina bianca, in questo caso l'alternativa è il grigio Lanzarote. Porta XL con finestra integrata, andiamo all'interno del veicolo. La disposizione è molto ampia, prevede all'ingresso la cucina, cucina dritta con i tre fuochi, lavello, una grande dispensa. Sul fronte abbiamo un frigorifero diviso in due, parte superiore di frigo, parte inferiore abbiamo un comodo freezer scorrevole. Al di sopra il vano per l'alloggiamento dell'eventuale televisore. La parte posteriore può essere dotata, come in questo caso, di un letto basculante elettrico. Normalmente abbiamo una dinetta a ferro di cavallo, molto comoda, con la possibilità di abbassare il letto, comunque di avere un ulteriore posto letto. Ed eventualmente, abbassando i cuscini, questi che vedete, del living, un attimino con pazienza ve lo faccio vedere, si abbassa il nostro letto basculante, che come vi dicevo è elettrico, al di sotto abbiamo le tende a pacchetto, lo abbassiamo completamente e si porta a livello di quel materasso finale, per cui uno può decidere come dormire, se dormire trasversalmente, dormire longitudinalmente e si libera anche un comodo vano alloggiato là sopra. Oblò 40x40 quando si usa il letto basculante, due comodi vani laterali e, quando non si usa il letto basculante, abbiamo le finestre laterali. Proseguiamo la visita del nostro veicolo, andando verso la cabina troviamo il bagno. Il bagno è il classico bagno vario del gruppo Imer, per cui pc fisso, in questo caso tazza girevole ma nel posto fisso, specchiera con lavandino armadio, con un movimento unico, si abbassa questa linguetta e la rotazione del lavandino, poi con una tenda che si fissa magneticamente si crea un comodo box doccia, come vedete con la sua colonna attrezzata. Dopodiché abbiamo la cabina, in questo caso il veicolo ha il pacchetto premium, nel pacchetto premium in questo caso da 10 pollici, abbiamo il multimediale originale Fiat con CarPlay, abbiamo il climatizzatore automatico e la strumentazione completamente digitale, oscuranti plissettati, abbinati anche i cerchi in lega. E poi abbiamo la nostra camera da letto, creata sopra la cabina, un altro comodo armadio in questa zona e cassetti all'interno della scala e la possibilità di un gradino retrattile che permette la salita per poter vedere il nostro letto a Miratolo, che è un comodo letto, dotato di un grandissimo skyroof sopra il letto, in questo caso è un optional, ma un optional che io consiglio perché è fondamentale anche se molto arioso. È un veicolo particolare, un veicolo da vedere al di fuori delle solite produzioni, vi invito a venirlo a vedere qui da noi alla Bonometti e vi aspetto per altri video.